Musica Grande tristezza e amarezza in tutta la regione per la tragedia che ha colpito una famiglia isernina, vittima di un terribile incidente in autostrada nella serata di sabato. Tornavano in Molise dopo una cerimonia di laurea a Milano, poi lo schianto contro un tir sull'A1 nei pressi di Arezzo. Nonna e nipote, Lucia Pietrangeli di 81 anni e Noemi Avicolli di 19 sono decedute. Il papà della ragazza e figlio dell'anziana donna, il collega giornalista Giovanni Avicolli, è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Tornavano dal capologo Lombardo dove si era laureato l'altro figlio, una tragedia che ha gettato nello sconforto familiari, amici e conoscenti. Giovanni Avicolli è molto conosciuto in Molise, per anni cronista a Il Tempo e Tele Molise e tuttora in forza la sede europea di Bruxelles della regione Molise. Numerosissimi messaggi di cordoglio, in particolare quello della delegazione molisana del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, al quale si associa la redazione di TVI Molise. Concluse le indagini della Procura di Campobasso relative a sei amministratori locali per le firme false che supportavano alcune candidature alle elezioni regionali del 2013. Nel dettaglio, riporta l'Ansa, per due persone, il Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Michele Durante, e il Sindaco di Santa Croce di Magliano, Donato D'Ambrosio, è stato chiesto il rinvio a giudizio. Per altri quattro, invece, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Si tratta dell'Assessore Comunale di Campobasso, Salvatore Cola Giovanni, e dai sindaci di Mirabello Sannitico, Luciano Di Biase, di Ferrazzano, Antonio Cerio e di Rocca Vivara, Franco Antenucci. La Procura contesta complessivamente alle sei persone 30 firme false. Nel mirino della magistratura, dunque, sono finiti amministratori locali che hanno autenticato le firme presentate a supporto della lista. Firme che, in alcuni casi, si sarebbero rivelate false. Continuano i controlli antidroga predisposti dai carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, presso istituti scolastici e altri luoghi frequentati dai giovani. Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato decine di studenti, due dei quali sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza, entrambi i zernini, trovati in possesso di alcune dose di hashish. I due avevano anche diverse banconote da 10 euro, ritenute dai carabinieri provento dell'attività di spaccio. Sia la droga che il denaro sono stati posti sotto sequestro. Ora le indagini continuano al fine di accertare il canale di rifornimento. Sparisce l'oro della Madonna a Rocca Sicura e dopo alcuni mesi di indagine finisce sotto accusa l'ex parroco, svolta inaspettata nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Isernia sulla vicenda accaduta alla fine dell'estate. In occasione della festa della Madonna di Vallisbona, alcuni fedeli avevano notato la mancanza di gran parte degli oggetti preziosi donati per decenni alla vergine dagli abitanti del paese. Si parla di alcuni chili di preziosi per un valore di migliaia di euro. Si erano così rivolti ai carabinieri che avevano avviato le indagini. E dopo alcuni mesi di lavoro, la Procura ha ora iscritto sul registro degli indagati, con l'ipotesi di reato di appropriazione indebita, l'ex parroco di Rocca Sicura, che intanto, dopo che il furto era stato denunciato, è stato trasferito altrove dalla Curia. Con lui risultano indagate anche altre quattro persone. Sindaci e cittadini di Casa Calenda, Larino e Termoli scrivono a Regione e Trenitalia in vista della riduzione delle corse dei treni da Campobasso a Termoli. Preso atto che dal prossimo 11 dicembre, affermano, le corse passeranno da 9 a 3 nell'arco dell'intera giornata e che il treno è l'unico mezzo di trasporto pubblico che collega i centri interni con la costa e con il capoluogo di Regione e di conseguenza con le direttrici Lecce, Milano, Campobasso, Roma e Campobasso, Napoli, si chiede il ripristino delle corse esistenti o in subordine la rivisitazione degli orari, determinando anche una riduzione purché condivisa dalla cittadinanza, utenza e dagli amministratori locali che la rappresentano. Nella missiva i sindaci si dicono disposti a presentare una proposta alternativa che veda anche la riduzione delle corse senza però creare disservizi alla pubblica utilità. Si chiede infine un incontro in tempi brevi appunto per la valutazione di una proposta alternativa. Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno, è stato confermato alla guida del gruppo di lavoro per i minori non accompagnati della conferenza delle assemblee legislative delle regioni europee, Calre. Si tratta, si legge in una nota, di un risultato storico per il Molise che al pari delle altre regioni italiane si è visto riconosciuto il proprio valore e l'identica dignità costituzionale delle altre autonomie locali. L'aver incassato la fiducia di tutti i partecipanti alla conferenza, nonostante lo statuto imponesse a due anni il limite di mandato per i coordinatori dei gruppi di lavoro, è stato un chiaro attestato di stima e riconoscenza per il lavoro portato avanti dal presidente Cotugno, lavoro supportato dall'apporto del procuratore capo del Tribunale dei minori di Campobasso, Claudio Di Ruzza, e dei docenti Unimol, Michele Della Morte e Stefania Giova. Oggi pomeriggio l'incontro tra il governatore Frattura, il direttore del Servizio regionale di protezione civile, i funzionari dello stesso e i sindaci dei 21 comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 5 e 6 marzo 2015 per la stipula delle previste convenzioni di affidamento delle funzioni di soggetto attuatore degli interventi di rispettiva competenza. La stipula delle convenzioni di affidamento dà immediata attuazione al piano degli interventi rimodulato e approvato con decreto del commissario delegato il 29 luglio 2016. L'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile dello scorso 8 novembre, spiega il consigliere regionale delegato Salvatore Ciocca, ha individuato la Regione Molise quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie, al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità che si è determinato a seguito degli eventi meteo del marzo 2015. E' stato inoltre individuato nella persona del direttore del Servizio regionale di protezione civile, conclude Ciocca, il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione, nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati. Premia il Nord la classifica sulla qualità della vita redatta dal quotidiano economico Italia Oggi e dall'Università La Sapienza. Trento viene spodestata da Mantua, sale sul podio Belluno. Non emergono grandi novità per quanto riguarda il Molise rispetto allo scorso anno. Campobasso si piazza al 49esimo posto, guadagnando una posizione rispetto al 2015. Isernia è 75esima, ma sale di otto posizioni. Ultima in classifica, Crotone, penalizzata dai tassi di criminalità rilevanti. In generale lo studio tiene conto del tenore di vita e del numero degli abitanti, dell'ambiente, dei servizi sanitari, scolastici e finanziari, dell'occupazione, del disagio personale, sociale e dell'offerta culturale o sportiva per il tempo libero. In totale gli indicatori sono 84, articolati in 21 categorie. Si chiama App Molise ed è una guida al territorio molisano. È stata presentata oggi l'applicazione ufficiale dell'assessorato alla cultura della regione molise, che raccoglie i dati e le informazioni relativi ai luoghi della cultura più importanti della nostra regione. Nella conferenza stampa il delegato al ramo Nicolaio Fredi ha evidenziato l'importanza della collaborazione di tante persone per la realizzazione del progetto. L'app Molise è rivolta a turisti e molisani e in essa c'è la descrizione di tutto ciò che caratterizza il territorio di ciascun comune, dalla storia all'arte, dalla cultura alla natura, dai monumenti ai siti archeologici. L'app è già disponibile per le piattaforme iOS e Android.